Ok Deppa, adesso sei trascorrevole. Mi vedi? Sì, anche perché io sono con tre gare. Eh, lo so, lo so. Tranquillo Deppa, allora ascoltami bene. Prendi le carte e mescoli le carte. Hai 13 carte già prese, non puoi prenderne altre. Scegliene altre se vuoi. No, no, va bene, va bene. Ok, come vuoi tu. Hai già le carte prese. Mescoli le carte. Adesso ascoltami benissimo. Fai vedere al pubblico che ammazza le carte regolari perché poi pensano che tu e le carte trocate. Aprele bene, aprele il taglio. Non si vedono bene, metti proprio in un istante che si vede bene. Tutte carte regolari, giusto? Ok. Adesso, prendi le carte. Le prime due le passi sotto. Una giù e l'altra sotto. Le prime due sotto. Una e due. Ok? Ok. E poi giù e poi sotto. E poi giù e poi sotto. Mi fai un pazzo e mi fai... Mi fai un pazzo e mi fai un pazzo. Ma capisci cosa sto creando io? Sì, se questa cosa avviene è una cosa allucinante. Ecco, esatto. Vero che capisco. Bravissimo. Tu stai facendo il lavoro sopra, sotto, esatto. Poi rimarai con una sotto. La sopra, la metti sopra. Ok, adesso ascoltami benissimo. Fai così. Prendi e ti fermi alle prime carte che vuoi tu, portandoli sotto. Vai. Dove senti che ti vuoi fermare? Io non voglio vedere niente, eh. Va bene così. Ok. Adesso guarda la carta. Fatto? Sì. Ok, mescola tutto. Ok. Deppa, perché stai pensando al 3D quadri? Perché stai pensando al 3D quadri, Deppa? Perché lo stai pensando a questo 3D quadri? La tua carta. La tua carta? Incredibile. Ma guarda, che strano. Ti vedo scorrevole. Adesso ti vedo molto scorrevole. Ora sì. Veramente è un qualcosa che forse io posso chiamare leggenda. Credimi. Fai tutto tu. È come se fossi nella tua casa fondamentalmente. Capisci? Aspetta che sto po'... Questa è allucinante. Questa è allucinante. Questa è allucinante.